Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 156esima puntata del podcast di Marcos Box. Finalmente è iniziata a piovere, non sapete quanto sono contento che finalmente è iniziata a piovere. Anche se stanno ancora le zanzare. Siamo a ottobre e stanno ancora le zanzare, è finito in mese. Marietta e zanzare. Quando ben andate? E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie al mondo del software libero open source. Questa puntata sarà dedicata a commentare alcune notizie riguardanti Ubuntu. Si continua a parlare di Ubuntu dove il rilascio della scorsa settimana che ha avuto un qualche piccolo intoppo dovuto a una ISO compromessa, con delle traduzioni compromesse. E poi ci sarà una piccola parte dedicata anche a Microsoft con una sorpresa che vabbè, poi lo capirete più avanti. Apriamo questa puntata tornando a parlare nuovamente di Ubuntu e nella precisione di Ubuntu 23.10. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con il rilascio di Ubuntu 23.10 e con la decisione da parte di Canonical di sospendere momentaneamente il rilascio delle ISO di Ubuntu 23.10 e di Ubuntu Bagi 23.10. Perché erano state rilasciate e poi sono ritirate le ISO di Ubuntu 23.10 e di Ubuntu Bagi 23.10? Beh, perché alcuni utenti avevano scoperto che all'interno delle schermate di installazione della distro erano presenti traduzioni offensive nella localizzazione ucraina. Ve ne avevo parlato subito di questa vicenda all'interno delle pagine del blog e vi avevo promesso aggiornamenti. Ebbene, a quanto pare, dopo ben quattro giorni da quello che era la data di rilascio ufficiale di Ubuntu 23.10, finalmente Canonical è riuscita a risolvere il problema e ha provveduto a rilasciare delle ISO correttive con un installer aggiornato, quindi senza le traduzioni offensive nella localizzazione ucraina. Se avete già installato la distro utilizzando una delle ISO originali non dovete preoccuparvi perché sempre da qualche riporta Canonical le traduzioni offensive erano presenti soltanto all'interno del nuovo installer e non c'era traccia di altro codice malevole, traduzioni e quant'altro all'interno degli altri pacchetti. Quindi il vostro sistema è totalmente sicuro. Per l'occasione sono state rilasciate le due ISO aggiornate, dicevo, di Ubuntu 23.10 e Ubuntu Bagi 23.10 che sono state marcate con il numero progressivo 23.10.1 che potete scaricare da link che trovate in aggregato al post su blog. E che dire, di questa vicenda ve ne avevo già parlato in maniera sconsolata la scorsa settimana perché stanno succedendo un po' troppi intoppi all'interno di Canonical. Di certo vi ricorderete che qualche settimana fa, verso la fine di settembre, si era scoperto che lo Snap Store ospitava applicazioni malevoli. Questo poi non è stata la prima volta che lo Snap Store ha ospitato applicazioni malevoli perché, se non ricordo male, agli albori proprio dello Snap Store c'erano stati un altro caso simile. Quindi adesso poi c'è stato questo caso dovuto alle traduzioni malevole nell'installer. Insomma, stiamo vedendo che Canonical, che è Ubuntu, non è più la distro di un tempo. C'è meno attenzione, ci sono cose che non vengono controllate, cose molto gravi come per esempio il caso dello Snap Store, ma anche in questo caso è una cosa molto grave perché a questo punto oltre ad aver causato disservizi, oltre ad aver causato il ritardo del rilascio della distribuzione ha causato anche, a mio avviso, un danno di immagini a Ubuntu e mi fa pensare come i controlli di qualità non ci sono praticamente più. Si rilascia e poi alla fine si correggio in corso d'opera, se si correggio, soprattutto nelle versioni semestrali di Ubuntu. Che sta succedendo a Canonical, secondo voi? Una spiegazione la sapete qual è. Canonical da tempo ha deciso di mettere un po' da parte il settore desktop perché, diciamo, ce lo fa soldi con altri servizi, quindi non gli interessa più tanto Ubuntu in sé per sé come distribuzione. I risultati si stanno vedendo. A me dispiace di questa situazione per Canonical e speriamo che magari riescano a rimettersi in carreggiato e tornare a Ubuntu quella di un tempo. Dopo il rilascio di Ubuntu 23.10 mi sono reso conto che c'era un problema, non di poco conto a mio avviso, riguardante il parco software pre-installato su Ubuntu 23.10 e nella fattispecie mi sono accorto che c'era un problema. Un problema, a mio avviso, molto grave, ovvero non c'era la possibilità di installare pacchetti in formato DEB facendoci doppio clic su DS su Ubuntu. In passato Ubuntu integrava GDB per l'installazione dei pacchetti in formato DEB. Successivamente aveva demandato l'installazione dei pacchetti in formato DEB al software center. Adesso ha fatto un nuovo software center scritto in fratte, di cui vi ho parlato anche sulle pagine del blog e di cui ho pubblicato anche un video sul canale YouTube del blog e questo nuovo software center non gestisce i pacchetti in formato DEB quindi ci ritroviamo su Ubuntu che se vogliamo scaricare ad esempio Google Chrome, Edge oppure gli installer di Minecraft o magari, come nel mio caso, anche i driver della stampante di una stampante nel mio caso la stampante Brother e ci ritroviamo nell'impossibilità di poter installare i pacchetti in formato DEB in maniera semplice facendoci doppio clic su DS e sono stato costretto a pubblicare sul blog un video che vi spiega come risolvere questo problema come installare GDB per risolvere questo problema su Ubuntu 23.10 continuo a pensare che, come vi avevo detto nella parte di prima dedicata ai problemi del rilascio di Ubuntu 23.10 continuo a pensare che Canonical proprio se ne sta fregando più di niente o meglio, sembra che, come ho ripetuto anche in precedenti occasioni mi sembra che Canonical sta condivando a dire il futuro delle applicazioni per me in formato Snap a voi non ve ne frega manco più di installare i pacchetti in formato DEB e trovo una cosa molto spiacevole perché è, a mio avviso, una grave carenza di Ubuntu 23.10 le derivate di Ubuntu, l'avete visto, lo sapete già offrono out of the box la possibilità di installare i pacchetti in formato DEB facendoci doppio clic su DS quindi offrono uno strumento di facile installazione a tutti quanti gli utenti alle prime armi Canonical invece su Ubuntu ha deciso di fregarsene, di infischiarsene con, a mio avviso, il motivo, ve l'ho detto, è sempre quello di promuovere sempre più il formato Snap quindi scordatevi DEB, i DEB sono in passato per Canonical voi comunque che cosa ne pensate? utilizzate GDB sulle vostre installazioni di Ubuntu sapete bene che io, all'interno delle guide post-installazioni di Ubuntu che negli ultimi anni si sono concentrate soltanto sui rilasci, quelli di LTS uno dei punti fermi delle guide è sempre quello di installare GDB perché vi risolve non soltanto il problema dell'installazione dei pacchetti in formato DEB ma vi aiuta anche in altri casi in cui avete problemi di installazione di tutte le dipendenze GDB riesce a risolvere tutte le dipendenze e quindi vi installa correttamente tutti gli applicativi in formato DEB che scaricate, a differenza di altre metodologie quindi per me è un must have voi, ripeto, che cosa ne pensate? e concludiamo questa prima parte di puntata dedicata a Ubuntu con una guida postata da Igor Igor è un lettore di Marcosbox molto attivo sul canale Telegram che mi ha contattato e mi ha chiesto se poteva pubblicare una sua guida io mi sono detto ben felice di pubblicare anche perché tratta un argomento molto caldo e molto seguito molti utenti della community mi chiedono spesso informazioni al riguardo ed è una guida su come rimuovere Snap dalle derivate di Ubuntu la guida è davvero ben fatta, molto semplice vi guida passo passo nella desnappizzazione della vostra distro fatemi sapere voi che cosa ne pensate se anche voi siete uno di quegli utenti che va subito a rimuovere il supporto a Snap eredicandolo dal sistema non appena va a installare una qualsiasi distribuzione che supporta Snap e soprattutto lasciate un commento fate sentire a Igor, il calore della community spero tanto che Igor possa in futuro continuare a scrivere articoli per il blog sapete bene, il blog è aperto a tutti quanti i contributi quindi se volete contribuire, se volete far pubblicare un articolo su una guida, su qualche argomento qualsiasi argomento che vi sta a cuore riguardante il software libero open source contattatemi, vi aggiungo ben volentieri tra i contatti, tra gli autori del blog così lo potete pubblicare a vostra firma in modo tale che rimarrà in peritura memoria delle future generazioni lasciatevi un commento comunque, andate a commentare, su su riallacciandoci all'argomento derivate di Ubuntu parliamo adesso di PopOS PopOS la conoscete tutti, quella distribuzione sviluppata a System76 che è destinata inizialmente ad essere equipaggiata e equipaggiare i computer venduti dall'azienda i computer Linux compatibili venduti dall'azienda ma che poi è diventata una distribuzione largamente utilizzata e apprezzata dalla community di tutto il mondo io stesso quando mi trovo a voler utilizzare distribuzioni basate su GNOME faccio spesso una capatina su PopOS perché mi piace molto come hanno strutturato la distro e come hanno strutturato anche l'aspetto del desktop però sapete bene che il team di PopOS è deciso da diverso tempo oramai di realizzarsi un desktop environment in casa scritto in Rust che andrà a sostituire GNOME e Shell presente sull'attuale versione di PopOS e questo mese come da tradizione perché ogni mese c'è un appuntamento fisso il team di System76 ha pubblicato una serie di indiscrezioni di anteprime sullo sviluppo di Cosmic Day questo è il nome del desktop environment in sviluppo e ha postato alcune informazioni riguardanti le schermate di blocco e accesso perché sono praticamente terminate è possibile anche avere un'anteprima del funzionamento della schermata di accesso ricandovi a un apposito link che vi ho lasciato sulle pagine del blog ci parla delle implementazioni, delle impostazioni, dell'aspetto di tutte quanti la possibilità di personalizzare il look in field della distro con accenti che non cambiano soltanto che ne sono riscritte ma cambiano proprio tutto quanto ricorre della distribuzione è una cosa sembra un po' pacchiana da vedere dai primi screenshot ma secondo me l'hanno voluta mostrare in quella maniera proprio per dare un impatto visivo molto forte ci sono poi alcune modifiche che hanno fatto nella gestione del tiling per le aree di lavoro con un nuovo anche applet Cosmic Tiling che è stato sviluppato da un utente terzo della community di System76 di PopOS che è stato integrato all'interno del pacchetto base di applet che troveremo su Cosmic Day c'è poi il supporto per il binding dei tasti su modificatori migliorie qua e là che sono state effettuate per il supporto a Wayland e poi altre cosine che vi invito a approfondire leggendo l'articolo sulle pagine di Marcosbox dove troverete anche una serie di screenshot io non vedo l'ora di metterci le mani su su Cosmic Day speriamo a sto punto che qualche cosa arrivi entro la fine dell'anno anche se sono un poco fiducioso da come sto vedendo la situazione perché se la stanno prendendo un po' comoda fanno bene a prendersela comoda a non andare di fretta nel rilascio anche perché stanno riscrivendo un desktop environment a zero quindi non è una cosa semplice non stanno utilizzando tecnologie trite e ritrite come hanno fatto altri team che hanno sviluppato desktop environment per la propria list sto guardando a te sto guardando a te Linux Mint perché sapete Cinnamon ha bacchiato qua e là da Gnome invece in questo caso stanno facendo tutto da zero e sì da gli perdono in questo caso fanno bene andare con i piedi di piombo e a rilasciare il tutto solo quando tutto sarà dichiarato stabile sufficientemente stabile continuiamo a parlare di desktop environment parlando del miglior desktop environment in circolazione ovviamente sto parlando di KDE Plasma perché il team di KDE ha annunciato finalmente la data di rilascio di KDE Plasma sia la nuova major release di KDE Plasma che promette Faville la nuova versione di KDE Plasma verrà rilasciata il prossimo 28 febbraio 2004 sulle pagine di Marcosbox vi ho pubblicato anche le tappe intermedie che ci separano da rilascio di KDE Plasma 6 e come potete vedere dal piano di rilasci ci saranno ben due versioni beta concentrate praticamente nel giro di 20 giorni tra fine di novembre e quasi la metà di dicembre 2023 seguite poi da due release candidate che si susseguiranno a pochi giorni in distanza l'una dall'altra e saranno tutte concentrate a gennaio del 2024 quindi manca davvero poco questa nuova versione di KDE Plasma speriamo di non avere grandi problemi nel passaggio tra KDE Plasma 5 e KDE Plasma 6 che non si ripeta la storia del passaggio da 4 a 5 che sapete bene che ci sono stati un po' di imprevisti per noi utenti con un po' di bug di troppo ma io sono fiducioso nel team di KDE ovviamente se volete seguire lo sviluppo senza compromettere la vostra macchina da lavoro vi consiglio di crearvi una macchina virtuale e di installarvi la versione experimental di KDE Neon in modo tale da poter seguire lo sviluppo di Plasma in tutta sicurezza fatemi sapere se anche voi state aspettando il rilascio di questa nuova versione di KDE Plasma che cosa ne pensate e se anche voi ritenete KDE Plasma il miglior desktop environment in circolazione e passiamo adesso a parlare di applicazioni parliamo di Krita uno dei migliori fieri del software libero open source perché nel corso degli anni Krita è diventato un punto di riferimento per tutti quanti gli appassionati di pittura digitale, di disegno è diventato un software largamente utilizzato sia su Linux che su Windows Krita ricordo fra l'altro che ha anche funzioni utili per il fotoritocco quindi è una valida alternativa anche a GIMB e personalmente conosco diversi utenti che utilizzano Krita al posto di GIMB continuano a preferirlo il software è davvero ben fatto ed è disponibile gratuitamente per macOS, Windows e Linux li ho citati in quest'ordine ma perché capire da adesso perché ho citato prima macOS bene, Krita è disponibile anche a pagamento come molti di voi ben sapranno su diverse piattaforme è disponibile a pagamento su Steam, su Windows Store, su Epic Store e su Google Play perché è disponibile a pagamento qual è la differenza tra la versione a pagamento e la versione scaricabile del sito? nulla la diversione a pagamento in più ha soltanto il dover cacciare un piccolo contributo economico che comunque serve a sostenere il risultato dell'applicazione quindi se noi acquistiamo Krita da uno dei suddetti store stiamo facendo un atto di amore nei confronti del software un atto di apprezzamento e i nostri soldi contribuiranno allo sviluppo delle future versioni al mantenimento del software bene adesso Krita a partire dal 28 ottobre è diventato finalmente disponibile anche sul macOS e Apple Store di Apple gli sviluppatori di Krita ci hanno messo diverso tempo per renderlo disponibile sul macOS e Apple Store di Apple perché hanno dovuto anche gottare con alcune delle richieste che Apple fa ai vari programmatori per poter pubblicare una applicazione sul macOS e Apple Store ad esempio c'è il problema del fatto che le applicazioni devono integrarsi con il sistema di sandbox di macOS comunque alla fine ci sono riusciti gli sviluppatori di Krita e hanno pubblicato questa versione a pagamento sul macOS e Apple Store il costo sulla versione americana è di 14,99$ ancora non sono riuscito a vederlo sulla versione europea quindi non so se hanno fatto un tasso di conversione 1 a 1 o faranno la versione da 14,99$ al corrispettivo in euro comunque l'esborso di denaro qualora vogliate supportare Krita in questa maniera non è un esborso di denaro eccessivo e facendolo vi sentirete anche meglio perché avrete supportato questo splendido programma per maggiori informazioni come sempre vi rimando all'articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox e fatemi sapere se anche voi apprezzate Krita passiamo ora a una notizia di servizio per tutti quanti gli utenti di Firefox a partire dal 1 novembre Mozilla ha deciso di cambiare nome alla funzionalità account Firefox ridenominando l'account Mozilla la decisione del cambio di nome è stata presa in ottica di evoluzione del brand come sapete all'inizio l'account Firefox serviva semplicemente per la sincronizzazione di Firefox ma successivamente questa funzionalità ha raggruppato anche altre funzionalità di Mozilla supportando un'ambia gambia di prodotti e servizi come per esempio il servizio di VPN di Mozilla e quant'altro da qui la decisione di cambiare il nome alla funzionalità in account Mozilla per noi utenti non cambierà praticamente nulla perché il cambio di nomi di denominazione non inficerà sulle funzionalità nome utente password e preferenze resteranno invariati continueremo a utilizzarlo come sempre e quindi non ce ne frega niente però era soltanto un annuncio che Mozilla era tenuto a fare perché perché appunto ha deciso di cambiare il nome a questa funzionalità tra parentesi da quel che leggo anche le email che ci arriveranno continueranno a essere quelle del dominio principale quindi continueranno ad avere accounts.firefox.com quindi non ve ne accorgerete di nulla e concludiamo questa puntata con uno dei segni dell'apocalisse perché è palesemente uno dei segni dell'apocalisse cioè non giriamoci intorno perché Microsoft ha deciso di realizzare sulla pagina learn.microsoft.com un wiki che spiega in offiti non solo come instarcare alcune applicazioni di Microsoft su Linux ma anche come scaricare e restare una distribuzione Linux il wiki che ha realizzato è anche ben fatto l'hanno scritto anche bene quindi mi stanno rubando anche il lavoro come blogger vi spiega, vi introduce i concetti del Windows Subsystem for Linux vi spiega come creare una macchina virtuale e vi spiega anche come installare in dual boot una distribuzione Linux di tutto vi consiglio anche di utilizzare, che ne so, Balena Etcher per poter fare l'iso vi spiega, vi fa vedere anche alcune schermate di di come si chiama, di Ubuntu dell'instagram di Ubuntu vi spiega cosa fare dopo aver installato Linux eh dio mio veramente è una cosa che non mi sarei mai aspettata da Microsoft e ormai ho il segno dell'apocalisse ho proprio innamorato a cotta Microsoft di Linux voi che cosa ne pensate, trovate inquietante questa cosa anche voi siete rimasti sciocco basiti dopo aver visto visto questo wiki e tutto il resto fatemi sapere lasciando un commento sulle pagine del blog ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 156esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi invito a seguirmi numerosi sui principali piattaforme social mi trovate su Facebook, mi trovate su X, mi trovate su YouTube dove posto anche video non strettamente legati a Linux mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Mastodon.1 e soprattutto mi trovate su Telegram dove sono all'attivo con un canale dedicato alle notizie la community di Telegram nella quale potete parlare non soltanto di Linux ma di qualsiasi cosa vi passa per la mente e trovate poi il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei miei link referral link referral che trovate anche pubblicizzato sulle pagine di Marcos Box sarebbe Marcos Box-21 infine vi ricordo che potete anche supportare il blog acquistando o rinnovando il vostro servizio di VPN scelta tra AtresVPN, Surfshark e NordVPN sulle pagine di Marcos Box trovate i link referral e con questo è tutto lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao